Chi sono le donne più ricche d'Italia? Al primo posto si attesta Massimiliana Landini Aleotti, la proprietaria dell'azienda farmaceutica Menarini. Si guadagna al primo posto grazie ad un patrimonio di circa 5.4 miliardi di dollari. Tra l'altro già dal 2016 in classifica tra le 10 donne più facoltose al mondo. Al secondo posto Miuccia Prada, alla guida della casa di moda di famiglia dal 1978 ha confermato Prada tra i brand del lusso più importanti a livello internazionale. Si è attestata al secondo posto con un patrimonio di circa 4 miliardi di dollari. E per chiudere la classifica Susan Carol Holland al terzo posto con un patrimonio netto di circa 3.8 miliardi di dollari. Figlia del fondatore di Iva Amplifon è entrata nel board del consiglio di amministrazione già nel 1988. Nel 1993 assume la carica di vicepresidente nel 2011 presidente dell'azienda. Questa un'ulteriore curiosità per tante altre seguici sui nostri social.